E' stato riconosciuto come la reincarnazione di Lama Tutteyeshe, che è il fondatore dell'APT, e aveva l'aspirazione di portare il Dharma in un accidente. E quindi il Dharma farà un grande discorso, un grande produttore di firma, cantante e così via. Adesso vive in Spagna e dà insegnamento, è il fondatore del Global Train Growing per costruire e per piantare i alberi. La nostra comunità per fare le domande, anche questo sarà il moderatore, poi se c'è il tempo dopo queste domande, apriamo le domande, apriamo la sessione di domande risposta. Se vogliamo ringraziare Jackie Kelly, i traduttori e poi dopo tutte quante le persone che ci hanno aiutato per far sì che questa occasione fosse possibile. E anche questo evento è un grande piacere lavorare armoniosamente con tutti quanti. Ed è anche il mio piacere introdurre Ose, e noi siamo veramente molto grati di averlo con noi. Benvenuto Ose. E ora adesso parlo con Jennifer e Ose, che faranno la motivazione e faranno alcune preghiere prima di cominciare questo incontro. Sì, posso cominciare allora? Sì, posso cominciare allora? Sì, posso cominciare a fare le domande? Sì, posso cominciare a fare le domande? Perché penso il nome per questo discorso è veramente molto interessante, perché noi non siamo Shantideva. E quindi penso che devo parlare un pochettino di questo prima di cominciare con le domande. Ah, perché io Gesù, per quale motivo? Voglio dire soltanto, è veramente interessante, c'è veramente una frase che attira molto, no? È questo per questo che avete scelto questo. Quindi principalmente è molto importante. Naturalmente noi non siamo Shantideva ovviamente, non possiamo spingere troppo noi stessi, però allo stesso tempo è buono cercare di sforzarsi e di visualizzare cosa noi vogliamo diventare, dove vogliamo andare. Quindi è molto buono essere ambiziosi spiritualmente, l'evoluzione della nostra spiritualità, della nostra esperienza e dobbiamo cercare di soddisfare questo nella nostra vita. E questo dobbiamo cercare una grande ambizione e una buona motivazione anche per poter aiutare gli altri esseri sentienti. Naturalmente noi non siamo Shantideva, però sarebbe fantastico se noi potessimo essere come Shantideva. Veramente, questa è veramente una grande motivazione per cominciare. Quindi noi parliamo sulla base, su questa base. Anche se sembra impossibile, piano piano possiamo ottenere qualsiasi cosa ne vogliamo. Passo dopo passo. Volevo dire questa cosa prima di cominciare. Ecco, questo. Grazie. Se volete cominciare delle domande, Gustavo. Grazie, Osella. La prima domanda che noi abbiamo è che cos'è la pratica migliore per le persone impegnate che non vogliono sprecare la prestigiosità della nostra domanda, però sono impegnate nella famiglia. Dice, questa è una bella domanda per cominciare. Noi abbiamo appena sprecato, sprecato, sprecato il tempo, sprecato il tempo. Però sembra che quando c'è qualcosa di molto interessante per noi, allora noi non sprechiamo tempo. Però quando non è interessante per noi, allora siamo lì a sprecare un sacco di tempo. E questo mostra già come noi etichettiamo il tempo continuamente. Per alcune persone per stare da aspettare nella sala d'aspetto sembra veramente una cosa impossibile perché sembra un tempo sprecato. Invece per altre persone è una grande opportunità per rilassarsi, per leggere, fare diverse cose. E dipende veramente dalla persona, no? Perché per alcune persone guardare la televisione non è una sprecare il tempo. Per altre persone sedere e pregare è una parità di tempo. Perché è veramente molto relativo in questo senso. Però quello che voglio dire è che parlando a livello realista, è veramente un terzo della nostra vita. Normalmente dormiamo, non tutti quanti, però la maggior parte, qualcuno magari dorme quattro ore soltanto. Però alcune persone anche, anzi non dormono assolutamente. Però normalmente noi dormiamo un terzo della nostra vita, dormiamo. E la seconda o terza della nostra vita è lavoriamo. E quindi facciamo un lavoro. E quindi un terzo della nostra vita. E l'altra metà, un terzo del terzo, mangiamo. Tutto quanto è in relazione, comprare il cibo, cucinare, mangiare, lavare i piatti e così via. E quindi ci rimane soltanto una metà di un terzo. E quindi questo è il tempo che noi dovremmo cercare di fare la pratica, dobbiamo fare qualche cosa. Naturalmente, potete dire, le persone che non vogliono sprecare il tempo, ma tutti quanti noi sprechiamo il nostro tempo comunque. Perché è basato sulle nostre priorità. Perché noi diamo questo tipo di etichetta, se è sprecarlo oppure no. Il tempo relativo è quel che non c'è veramente un tempo assoluto. E quindi allo stesso tempo è abbastanza un'ironia del nostro tempo e della nostra vita. E anche per esempio, allo stesso tempo ci blocca, ci fissa il tempo. E' veramente un'ironia del tempo. E poi c'è buono, è cattivo, è bello, è brutto. Ci sono sempre questa visione dualistica. Anche, il dualismo anche non è reale. Ma per noi sembra veramente reale. Quindi io penso che sia buono. Un punto veramente interessante da toccare. Per veramente comprendere che tutto quanto è basato sulla nostra attitudine mentale. E questa è veramente la chiave. E se noi usiamo il nostro tempo bene, è veramente basato sulla nostra attitudine. Sul tipo di attitudine che noi abbiamo. Cosa possiamo fare con il nostro tempo. Come utilizzarlo. Quindi, tornando alla domanda. Per le persone molto impegnate, che non vogliono sprecare questa preziosa rinuncia. Però hanno tutte queste obbligazioni familiari. Io penso che noi, io dico noi perché io sono abbastanza coinvolta nella vita familiare. Comunque, è una benedizione avere questa opportunità. Perché la pratica non è fare, mettersi nel perfetto grotto, sedersi e meditare. La pratica deve succedere proprio sulla, mentre andiamo avanti. E non è riguardo il viaggio, non è riguardo la destinazione, ma è riguardo il viaggio. E quindi, veramente, questo è il punto chiave. Molto di noi proiettiamo la destinazione. La destinazione un giorno, quando avrò la perfetta grotta. Quando avrò abbastanza tempo per studiare. Quando avrò quel tempo di fare. E quando andrò in pensione, allora potrò bene. Noi idealizziamo, abbiamo il concetto di quello che dobbiamo fare. Ma questo effettivamente non esiste adesso. Quindi noi dobbiamo dare un certo tipo di parole per noi, per rilassarci. E quindi è sentirsi bene con noi stessi. E quindi, ma non è effettivamente, in quel momento non arriverà mai. Se noi aspettiamo questo tempo, non arriverà mai. Quindi, effettivamente, che tipo di stile di vita noi abbiamo adesso. E come possiamo diventare una migliore persona in quello stile di vita. E questo è quello che noi dobbiamo praticare. Questa è la vera pratica. La vera pratica è... Quando la situazione ci sfida. Adesso questo è il momento giusto. Questo è il momento giusto per praticare. E può essere in qualsiasi momento. Anche quando voi siete annoiati. Oh, adesso... Per qualsiasi motivo sono annoiato. Qualcosa è che proietta la mia mente. E quindi... Io penso che veramente... Dobbiamo... Dobbiamo... Anche mentre lavoriamo possiamo praticare. Perché riguarda il tipo di attitudine mentale che noi abbiamo. E... Metterci sempre in relazione alle persone. E come potrò rimettere in relazione alle persone con le quali lavoro. Come potrò rimettere in relazione a me stesso mentre lavoro. E se sono irritato come me stesso. Se sono ansioso. Se sono stressato. Tutte queste sono... Tutte queste che noi decidiamo di avere. Non sono necessarie queste. E non sono necessarie. E ci scegliamo di fare questo. E questo... Vogliamo giustificare la situazione che noi siamo felici. Dobbiamo giustificare noi stessi per essere felici oppure no. E quindi... Non vogliamo prenderci la responsabilità. Ecco. E dobbiamo cercare... Pensare... Quando avrò quel tempo? Allora praticherò... Se voi fate questo, effettivamente la sadhana... Le persone che non hanno tempo di fare questo, effettivamente... Le persone che non hanno tempo... Tutti quanti automaticamente... Potete mettere le vostre dediche, il vostro tempo, l'energia. E quindi create così un certo tipo di sentiero per avere delle impronte. E' già stato creato. Quello è diventato già una copia da seguire. Perché la pratica tradizionale è già lì. Questo è naturalmente... E' complementare la nostra vita. Qualsiasi tipo di vita che noi facciamo. Quindi, naturalmente, ci sono degli altri aspetti. Sono la vostra attitudine. Personalmente, quella è la vera pratica. Qualsiasi altra cosa è complementare a questo. Se non siamo capaci di fare questo, allora diventa veramente difficile. Anche se voi meditate per vent'anni e andate in iniziazione per vent'anni, non ha importanza. E naturalmente, se voi cercate di evitare... Nessuno vi ha la responsabilità per noi stessi. Allora io penso... Quello che posso dire riguardo a questa domanda... Veramente riguardo all'attitudine di avere una mente armoniosa. Essere felici con se stessi. E quindi potete condividere questo con gli altri. E nel posto di lavoro, con i vostri figli. E se i vostri figli sono arrabbiati, non vi ascoltano, o rendono la vita complicata, fanno tutto quanto sporco. Allora, naturalmente, non potete urlarle dietro ai bambini, no? Quindi, come potete avere... Che tipo di attitudine avete? In quel momento potete guardare se parlate con amore, guardate con pazienza, con amorevole gentilezza. Quella pratica. Quella è veramente una cosa che è lì con voi. È qualcosa che voi create. Nello stesso modo, c'è la pratica tradizionale, creiamo la stessa cosa, però in un modo più meccanico. In un modo... Un programma, no? Questo è più naturale. Succede organicamente, perché questo è un tipo di amorevole gentilezza, è un buon cuore, è un cuore caloroso. Questo è veramente importante. Voi avete già questa cosa qua. Dovete entrare in contatto con quello. Infatti, questo... Quindi, ogni giorno, questa è la vera pratica, secondo me. Questa è la vera pratica. Grazie, Santisa. Su questa è la prossima domanda. Come noi possiamo lasciare andare i nostri problemi interiori e soprattutto quando le... Non lo sai, già inventata questa domanda? Non c'è qua, non c'è qua. È una domanda che c'era già scritta lì. Quando abbiamo questi problemi con qualche persona. Questa è veramente una domanda molto importante, perché molte persone hanno questi problemi... Normalmente, quando abbiamo questi problemi interiori è perché abbiamo dei problemi con gli altri. Normalmente, è proprio per sé. Riguardo all'altra persona, naturalmente, quando l'altra persona si riflette su di voi e voi non volete effettivamente focalizzare su quello. Quindi cercate di mantenere così. Ah, quella persona sta sbagliando. Ma naturalmente, quando noi, anche se noi non siamo sbagliati, anche se noi non abbiamo fatto nessun tipo di errore, è buono comunque perdonare l'altra persona. Perché molte volte, se noi non perdoniamo, gli altri non possono perdonare. Non soltanto questo. Se noi non perdoniamo e continuiamo anche a tenere questo sulle nostre persone, lo portiamo questo risentimento dentro di noi verso quell'altra persona, quella situazione delle volte. Qualsiasi cosa sia, quando abbiamo questo risentimento. Allora, eventualmente, dobbiamo veramente prenderci la responsabilità che noi ci portiamo addosso a questo risentimento. quindi è molto importante cercare di perdonare. Io dico, non ho assolutamente risentimento con quella persona, però delle volte, veramente dobbiamo veramente analizzare. Forse siamo troppo orgogliosi per accettarlo. Questa è veramente una buona domanda, perché molte volte ci sono delle cose che causano molta sofferenza. Veramente, noi dobbiamo imparare a perdonare, perché alla fine, se voi non perdonate, è molto di più in relazione all'ego. e dovete cercare di sviluppare un buon cuore. Avere un buon cuore, avere un cuore caloroso, è facilissimo perdonare, ci sente gioiosi. Anche se voi siete corretti e l'altra persona è sbagliata, siete contenti di perdonare, perché volete che l'altra persona sia contenta. Questo è quello che può succedere. Voi volete che l'altra persona si senta tranquilla, che si sente, che sta soffriando con la sua mente, pensando a qualcosa troppo. E volete che quella persona non si senta male. È veramente facile, è una cosa veramente molto facile, perché diventa molto complicato quando l'ego è coinvolto. E quindi il risentimento è soltanto a che fare con l'ego. E naturalmente, non è un risentimento, però voi tenete un limite, mettete un limite, perché l'altra persona non può effettivamente, può svilupparsi in un modo positivo, perché molte volte non è riguardo a voglia aiutare tutti gli esseri sezienti e dare tutto quanto ti mette a dare e dimenticare di se stesso. No, non dovete fare questo. Dovete anche avere compassione per voi stessi, anche dovete prendervi cura anche di voi stessi. Ecco, quindi la vostra compassione è lì dove mettete un limite, anche per l'altra persona che possa comprendere, anche l'altra persona, perché se voi date, 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 non soltanto non danneggiate voi stessi, ma danneggiate anche l'altra persona e quindi in qualche modo li viziate e in questo modo perdete completamente voi, dovete offrire i loro servizi e così via. Quindi loro, penso di avere sempre ragione, naturalmente, questa è un'impronta negativa per loro, perché loro così non imparano. Ecco perché delle volte è importante mettere anche dei limiti, mettere dei paletti e quindi io penso che sia molto importante essere in grado di perdonare, non sottolineare gli altri, ma anche perdonare se stessi, perché se non siete capaci di fare questo è veramente importante avere un buon cuore e se voi volete avere un buon cuore allora dovete fare qualcosa, veramente qualcosa che potete essere contenti di fare con gioia. Non dovete forzare voi stessi a fare questo, non così, non così, naturalmente, naturalmente, non dovete neanche pensare a questo, ma questo viene facilmente, si fa facilmente e quindi mantenere il sentimento non è una cosa buona per la vostra mente, non è un buon segno, non è un buon segno. Ok? Una cosa più specifica riguardo al buddismo, come si può comprendere il guru e la devozione al guru nel ventunesimo secolo? Mi sono già perso riguardo a che domanda è questa? E' la domanda numero 13, dice come possiamo condividere il Dharma con i bambini? Ho una versione diversa delle domande, scusa, scusa. Che cos'è la devozione al guru? Come possiamo comprendere il guru e la devozione al guru nel contesto del ventunesimo secolo? Wow! Questa domanda me l'hanno chiesta ma te la sono diventato provo a rispondere a questa domanda di base e il guru naturalmente ci sono tanta confusione delle volte riguardo a questo però la cosa principale è che ogni cosa che noi conosciamo ogni cosa uccidere qualcuno tutte le cose che Gustavo conosce dipendono dalla sua mente e qualsiasi cosa che tu hai imparato che non dipende dalla mente ovvero no io penso di sì io devo parlare tutto quanto che tu dici viene dalla tua mente o no se non mi fosse stato insegnato da qualcuno dai miei studenti non saprei come leggere scrivere non potrei fare neanche parlare non è la tua mente che ti ha insegnato alla fine se tu non avessi la mente non avresti potuto imparare niente ti pare? e quindi di base questo effettivamente è ciò che noi dobbiamo essere consapevoli io ho imparato da questa persona sì quella persona ti ha facilitato per imparare a conoscere noi stessi quindi chi è il primo guru? è la mente no? è la mente noi stessi no? e quindi questo è veramente non è il loro guru ma è il guru è il guru che noi dobbiamo essere consapevoli è che noi parliamo di devozione al guru no? ma quando noi siamo da soli non abbiamo questo tipo di devozione noi magari non rispettiamo noi stessi nello stesso modo come rispettiamo il guru esteriore quindi io penso questa è la cosa più importante che noi dobbiamo pensare e non è riguardo anche rispettare la devozione degli altri dobbiamo avere il rispetto per la nostra mente per noi stessi anche perché quando sono da soli posso fare qualsiasi cosa posso fare questo fare questo quest'altro se uno vuole veramente essere un vero praticante voi dovete anche essere consapevoli del vostro aspetto davanti al maestro sono tutto quanto bravo quando sono da solo allora non ci devo stare non devo stare attento naturalmente quando noi siamo da soli qualsiasi cosa che noi facciamo quando siamo da soli per esempio litighiamo questo è qualcosa di personale naturalmente noi siamo il nostro stesso guru non è una grande cosa io con me stesso così da solo però quello che cerco voglio dire il punto che voglio spiegare è che bisogna avere questo rispetto delle volte perché noi ci perdiamo ci perdiamo nel discorso della devozione al lavoro però questo diventa qualcosa di diverso perché noi non siamo effettivamente applichiamo il completo concetto noi applichiamo il 50% forse dell'effettivo significato della devozione al lavoro quindi in questo modo noi pratichiamo il guru esteriore è la stessa cosa il guru per esempio io sono io ho anche l'aspetto sono un uomo però ho anche un aspetto femminile e devo riconoscere questo devo riconoscere questi due aspetti che ho e quindi cercare di integrare l'aspetto femminile anche con l'aspetto maschile e dire io sono un maschio e loro non vogliono l'aspetto femminile no bisogna avere questi due aspetti insieme allo stesso modo devo rispettare me stesso e integrare questo aspetto del guru dentro di me quindi questa è veramente dov'è la pratica vuol dire che noi quando voi siete col guru agite in un certo modo e quando senza il guru allo stesso modo dovete agire nello stesso modo con rispetto con la fede quindi io penso questa è una domanda veramente questa è la debuzione al guru che è di due cose adesso io mi metto se comincio a pregare così faccio qualsiasi cosa che mi dice il guru e poi dopo così potete raggiungere l'illuminazione in questa vita e se non funziona ora posso criticare il guru e dire che è colpa del guru ecco perché penso che sia veramente molto importante avere fede nel guru ma anche avere fede in se stessi non dire che io sono migliore del guru o che il guru è meglio di me sono due persone noi siamo tutti diversi nessuno conosce più dell'altra persona noi conosciamo tutti quanti in modo diverso perché noi guardiamo le cose da punti di vista diversi impariamo in un modo diverso e comprendiamo in un modo diverso la nostra prospettiva e quell'informazione anche in un modo diverso anche se noi condividiamo lo spazio condividiamo questa superficie della terra l'aria e tantissime altre cose una cosa che noi non condividiamo è che ognuno di noi è unico la unicità di ognuno di noi è unica e questo non lo possiamo condividere però è veramente molto diverso e quindi è possibile che nel resto dell'esistenza di tutti quanti nei motivatori quella persona che voi siete non succederà ancora un'altra volta non succederà un'altra persona come voi e quindi è veramente molto importante comprendere il valore e quindi questa è un'altra domanda per esempio io magari rinascerò un'altra volta rinascerò un'altra volta ho creato delle cause per la prossima vita faccio intorno allo stupro faccio un po' di preghiere quindi accumulo dei meriti poi farò la prossima vita la prossima vita la prossima vita come si fa a conoscere ci sono tantissime teorie però adesso noi siamo qua adesso noi adesso abbiamo questa opportunità e anche questo corpo anche quando noi pensiamo a queste cose noi siamo una persona aiutami i batteri no non batteri cosa si parla mi aiuto quando voi mangiate quando voi mangiate i batteri noi siamo al 99% batteri e 1% o essere umani abbiamo un sacco di batteri dentro di noi e poi quel risultato è quello che noi prendiamo l'energia se voi pensate a un per cento di umano e quindi anche il concetto che noi abbiamo è completamente sbagliato siamo composti da milioni di organismi e batteri nel nostro corpo ci sono degli esseri senzienti non so se abbiano coscienza no ma penso che abbiano coscienza non lo sappiamo veramente poi ci sono anche le piante gli alberi forse hanno coscienza non lo so in accordo ai testi di butani dicono che non hanno una coscienza però delle volte penso anche quando ero un bambino dibattevo riguardo a questo perché delle volte si muovono quando le tocchi certe piante si muovono quindi allora dicono no che le piante non hanno la coscienza questo è un grande dibattito che io facevo sempre comunque sono convinto che è possibile che ci abbiano un certo tipo di coscienza forse però penso che gli alberi veramente comunicano attraverso le radici anche questo veramente ho sentito persone che hanno descritto quando qualcuno cammina con delle accette sentono che gli alberi hanno paura non so se sia vero questo qualcuno mi ha raccontato questa cosa e quindi la devozione al guru principalmente è veramente una cosa personale se voi non avete veramente la disciplina se non avete il lavoro la dedica la motivazione anche se voi avete un'incredibile devozione al guru verso qualcuno che rappresenta Buddha non è veramente un qualche cosa il guru è il guru naturalmente lui fa è veramente straordinariamente è evoluto fa incredibili pratiche ma riguardo al guru è come voi mi mettete in relazione come voi potete diventare come il guru volete diventare Shantideva come Shantideva o come la Massonkapa chiunque voi scegliate chiunque voi scegliate volete diventare come quella quell'essere volete diventare come Shantideva come Buddha e così via ecco ecco è così praticamente delle volte ci si confonde perché le persone proiettano e hanno l'aspettativa hanno l'idea idealizzano qualcuno e quindi si attaccano tantissimo a questo sono completamente e quindi naturalmente questo è quando il maestro lascia il corpo quindi o non non fanno o non dicono quello che voi volete aveva un amico che faceva chiedeva chiedeva sempre divinazioni al guru e lui chiedeva la domanda chiedeva se la risposta che dava non ascoltava quella andava da un altro guru così aveva tantissime e lui chiedeva soltanto andava da tutti quanti il guru per fare la stessa domanda e poi dopo ascoltava quello che gli dava la risposta che lui voleva sentire e quindi e quindi poi uno ha la risposta e quindi ha seguito la risposta che va seguita e poi naturalmente ha cominciato a dare e criticare il guru così comincia a criticare il guru questo qua è una cosa completamente sbagliata e questo non è effettivamente la devozione al guru e questa è una diversa è una domanda è una scusa questa ma cos'è Gemma? sì penso di sì va benissimo così grazie un'altra domanda che semplicemente perché tu l'hai menzionata magari non sono più in odio per esempio noi abbiamo parlato di rinascere ci sono tante teorie chi lo sa effettivamente una cosa che chiediamo è importante conoscere riguardo alla reincarnazione e perché è come noi possiamo comprendere la reincarnazione e tutto il resto nella filosofia buddista è menzionato che la coscienza non ha né inizio né fine quindi noi siamo infiniti infinito è molto grande è molto difficile da comprendere o afferrare questo però il concetto è così magari noi stiamo parlando di eoni e siccome noi abbiamo un numero si parla di infinito anche queste sono filosofie quindi bisogna dibattere molto vedere tutte quante le varie possibilità però il fatto è che la nostra coscienza esiste esiste da veramente tanto 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 tempo e non c'è inizio non c'è fine è veramente un tantissimo tempo e quindi quando noi ci attacchiamo siamo veramente così attaccati a questo corpo alle persone alla situazione o anche persone al nostro lavoro che abbiamo lavorato per vent'anni abbiamo costruito qualche cosa siamo completamente attaccati a quello e quindi la grande pratica è quella di visualizzare che noi eventualmente poi dovremmo morire comunque non sarà più niente così anche le persone che ci hanno ricordato e che si ricordano di noi moriranno è la realtà dell'impermanenza e penso che questa è qualche cosa che veramente dobbiamo essere molto consapevoli perché se noi non siamo consapevoli dell'impermanenza allora noi creiamo le condizioni per soffrire al 100% non soltanto questo ma anche spericheremo un sacco di tempo preoccupandoci di un sacco di cose di cui non dobbiamo preoccuparci e quindi non ha molto senso preoccuparsi di qualcosa che è qualcosa di completamente inutile che possiamo evitare quindi la vita e la morte è veramente così e oggi diciamo no no non si parla della morte no 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 è veramente le persone che non vogliono parlare della morte normalmente non sono in modo di vivere bene le persone che non vogliono parlare della morte non so se ha senso questa cosa comunque e quindi se uno ha paura della morte e anche paura di vivere ah se può succedere qualcosa di negativo allora non viaggio ah non voglio fare questo perché qualcosa potrebbe succedere e quindi perché ho quel tipo di paura quella paura di base quel pensiero di paura mi mette veramente in basso quindi non vi permette di vivere bene naturalmente abbiamo 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 questo istinto di sopravvivenza e di cercare di evitare situazioni di grande pericolo e dobbiamo vedere se dobbiamo impegnarsi in una lotta oppure lasciare andare e quindi dobbiamo dobbiamo non abbiamo completamente nutrire questa paura per renderla enorme dobbiamo veramente comprendere se vogliamo combattere oppure mollare e quindi veramente è lo stress per esempio che viene dalla paura è veramente quello che danneggia e non è ciò di cui avete paura ma è la paura che la paura non vi danneggia e però l'effetto di avere quella paura per qualsiasi cosa voi abbiate quello è quello che danneggia perché attraverso quella paura noi creiamo dello stress e attraverso quello stress non è salutare e quindi noi tendiamo a nutrire quello perché questo ci fa sentire più a vivi forse questo è un tipo di modello che noi abbiamo avuto per molto molto tempo e quindi è molto facile quando noi abbiamo questa abitudine è molto facile avere questa abitudine che continuiamo ad avere molte volte diventa veramente molto scomodo e noi pensiamo che se veramente le cose non pratiche allora noi siamo completamente bloccati in quella situazione impossibile insopportare e continuiamo a tenere quello perché abbiamo l'abitudine a fare questo solo per questo non c'è nessun'altra ragione quindi queste sono delle cose veramente molto importanti per cui dobbiamo svegliarci e anche il 2021 è un anno veramente importante per svegliarsi per questo karma collettivo ci sta dando veramente degli schiaffi ci sta schiaffeggiando tutti quanti ci stiamo così svegliando tutti quanti adesso non abbiamo scelto dobbiamo assolutamente svegliarci anche se sono delle persone anche la scelta è un'illusione però se voi pensate che questa è un'illusione non volete pensare veramente non volete prendere delle responsabilità volete scappare via dalle responsabilità quindi io penso anche a questo è veramente un punto molto importante nella propria vita e se volete scappare via volete scappare da voi stessi volete scappare via dalle vostre potenzialità molte volte per esempio noi abbiamo questo corpo abbiamo un incredibile corpo che funziona benissimo e quindi dobbiamo cercare di continuamente lavorare quindi tantissimo però noi ci ricordiamo soltanto del corpo le parti del corpo che non funzionano quindi c'è un piccolo problema ecco oddio ho questo quello quell'altro quando funziona non ce ne accorgiamo nemmeno non siamo veramente consapevoli di questo incredibile noi siamo consapevoli del nostro corpo noi se noi fossimo consapevoli delle potenzialità del nostro corpo non avremmo proprio assolutamente bisogno di essere depresse se noi fossimo consapevoli del nostro corpo allora è veramente una complessa dedicazione per il proprio corpo un grandissimo amore per sé senza perché noi abbiamo quella presenza e questo amore dentro di noi con questa coscienza e quindi naturalmente certo ci può essere un po' di depressione certe sono molto profonde croniche e delle volte sono molto reali però normalmente in generale se voi siete consapevoli che il vostro corpo è completamente amore e semplicemente che avete questo corpo che siete in contatto con questo incredibile corpo pieno di amore questo dovrebbe essere sufficiente per comprendere che non c'è veramente spazio per essere depressi perché molte volte perché parlo della depressione in generale però non quella depressione profonda che sono basate sono reali ha bisogno di tantissimo aiuto e naturalmente io penso che la prossima domanda che verrà però in generale il tipo di depressione viene quando hai abbastanza mangiare hai abbastanza hai sicurezza sei caldo quando hai tutti quanti i bisogni basilari coperti qui possiamo cominciare a blontolare riguardo a quello che non abbiamo quindi di base dobbiamo comprendere la mente deve sempre blontolare per qualcosa e dobbiamo cercare di comprendere capire e credere a quello che dice la mente però se la mente la mente è completamente smettete di spensare allora tutti quanti i vostri problemi compariranno se i problemi sono dei concetti sono dei concettuali tutti quanti quello che voi avete adesso questo corpo la vostra presenza quello che voi avete e questo è veramente il vero sé quindi quando voi cominciate a avere tutti quanti pensieri complicati questi pensieri nevrottici allora voi così non siamo veramente non siamo veramente nel vero sentimento di quello che noi siamo mischiamo tutto quanto con le proiezioni e quindi noi crediamo ci attacchiamo tantissimo a queste cose qua e queste proiezioni vanno e vengono e tutte queste vanno vanno e vengono e noi siamo come l'erba al vento vediamo in questo momento se il vento soffia in questo modo andiamo di là e la nostra vita siamo sempre così a su e giù quindi è veramente molto importante essere in grado di dire se c'è questo vento se però io continuerò per la mia strada e le cose negative sono nell'acqua nella sabbia come le cose buone sono scritte nelle pietre nel metallo sono sono dureranno per migliaia di anni così però molte persone il loro problema è che scrivono nelle rocce e le cose negative e buone le scrivono nella sabbia quindi si dimenticano completamente è una cosa piccola negativa succede diventa enorme e quindi diventa veramente pazzesca e quindi l'attitudine è veramente cercare di cambiare cambiare completamente soprattutto se vivete in una grande città c'è molto lavoro c'è tanto lavoro la famiglia non hai tanto tempo tantissimi problemi tantissime situazioni che disturbano la mente e quindi la cosa tecnica buona è quella di trasformare tutte queste cose ok still on the subject of rebirth we have some questions that I'm sure you've never been asked before riguardo la reincarnazione che magari nessuno te l'ha mai chiesto nessuno l'ha chiesto però la chiedo lo stesso qual è la tua esperienza personale riguardo la reincarnazione o tu ti ricordi qualcosa della tua vita passata questa è una domanda che mi fanno spessissimo ovviamente no non mi ricordo niente della mia vita passata se mi fosse ricordato sarei già intruscito da qualche parte o su Shambala o sentire gli insegnamenti di Buddha e così via no quando ero un bambino forse mi ricordavo qualche cosa ci sono molte storie dove ho riconosciuto le persone ho fatto molte cose come faceva la maeshe però non so se effettivamente sono una reincarnazione o no delle volte sono semplice qualcuno che ho tolto via degli ostacoli alla vera reincarnazione di la maeshe quindi sono come il sacco da prendere a pugni però non so veramente sono la reincarnazione di la maeshe comunque sono tanti che stanno facendo un buon lavoro comunque mi sento veramente molto fortunato sono molto fortunato di essere ricevere tanto amore da tante persone che non ho mai incontrato prima tutti quanti hanno amato tantissimo la maeshe la maeshe amava tantissimo tutto quell'amore tutto quello meraviene a me adesso e quindi non ho fatto niente per veramente meritarmi questo è veramente semplice posso semplicemente parlare tantissimo sono molto fortunato sono veramente molto fortunato quindi non so veramente cosa ho fatto per meritarmi questo però devo aver fatto qualcosa di buono e quindi sono veramente molto grato per questo e questa è veramente una situazione molto speciale è anche veramente vero è molto buffo anche l'amore che tu puoi effettivamente se tu senti tantissimo amore puoi dare per qualcun altro tutto l'amore che era per la maeshe è per la maeshe non per me ma per la maeshe però viene a me non so perché per il concetto per questo concetto io sono quella persona no però effettivamente potete mettere quello nella pratica nello stesso modo quando verso tutti quanti gli esseri senzienti di nostra madre voi amate vostra madre amate vostri figli vostra madre e così io ho un figlio così tanto anche se divento un assassino anche se lui diventasse come Hitler e comunque io l'amerei lo stesso lo stesso modo e quindi questo è veramente un amore incondizionato non ha importanza naturalmente ho molto dubbio che mio figlio diventerà come Hitler comunque tanto per darvi un'idea no però io penso riguardo a questa cosa l'amore incondizionato è veramente molto potente e quando dare soltanto dare soltanto è veramente voi vi racconto una storia adesso riguardo a mio figlio Norvo quando lui si sveglia la mattina mi chiede sempre che cosa hai sognato che cosa hai sognato e lui mi dice mi sono sognato di mia mamma ah dico va bene va bene 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 e poi un giorno si è svegliato e ha detto cosa hai sognato oggi Norvo la mattina prima di andare a scuola e lui mi ha guardato e mi ha detto ho sognato di papà e io dico hai parlato hai sognato me ero così contenta no 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 non è vero non è vero ho sognato la mamma un'altra volta quindi tutto quello ok però lo stesso poi ero veramente molto contenta così non è che mi ha disturbato questo sentimento era così ancora lì e quindi stavo ridendo ma che chi sciocco che è mio figlio quello che voglio dire che è l'amore incondizionato che hai per i vostri figli o per la vostra famiglia quell'amore dovete applicarlo per tutti quanti gli esseri sentienti allo stesso modo come davano amore alla maesce o lo danno a me così che sono completamente sconosciuto non so se molte persone mi conoscono però hanno il concetto e pensano che io sia io conosco me stesso però non conosco veramente me stesso nessuno conosce veramente se stesso a meno che non siate grandi praticanti delle realizzazioni comprendete veramente la vostra essenza la vostra natura e questa è veramente la grande possibilità che noi come esseri umani possiamo conquistare la nostra mente possiamo veramente conquistare la nostra mente e avere in irvana così e quindi io penso che questa è veramente la grande possibilità che ogni essere umano e i veri eroi sono quelli che sono in grado di fare questo che sono in grado di fare questo che sono in grado di poter diventare come Buddha Sakyamuni e questa è veramente una grande possibilità è un vero eroe è colui che riesce veramente a conquistare la propria mente e questo non so se ho sono andato al di là di tutte e quattro le domande comunque penso veramente un'ottima risposta fantastica grazie anche se avessimo più tempo ho delle altre domande da fare io ho tutto il tempo che vuoi devo andare a mettere un po' di devo andare a mettere un po' di legno nel fuoco 10 secondi vado a mettere un po' di legna nel fuoco prima di arrivare alle domande in diretta abbiamo già delle domande abbiamo già delle domande qua ero curiosa ci sono delle domande che abbiamo domandate che non ti ho chiesto e che pensi che volevi rispondere a qualcuna di queste tu mi hai mandato 25 domande c'è qualcuno che non ti ho chiesto che volevi che chiedessi le cose sono tutte quante delle buone domande tutte quante sono delle buone domande quindi dipende completamente da te e che semplicemente volevo darti l'opportunità però se ci sono tutte quante uguali allora ti chiedere delle domande che ti hanno fatto adesso il suo santità mi ha detto che noi dobbiamo essere dei buddhisti del ventunesimo secolo cosa vuol dire essere dei buddhisti del ventunesimo secolo se sia del ventunesimo secolo del quindicesimo secolo è assolutamente importanza è l'etichetta che noi diamo oggi l'etichetta che noi diamo però effettivamente essere buddhisti è un altro concetto essere delle buone persone avere una buona attitudine nella vita avere una persettiva corretta e quindi io penso che questo sia veramente l'aspetto principale del vero praticante buddhisti o non buddhisti è veramente relativo cos'è che ti fa il buddhisti se prendete il rifugio non siete buddhisti se mettete la mala al vostro color siete buddhisti ma è complessamente una cosa di moda e quindi non è effettivamente utile pensare in questo modo i veri buddhisti buddhisti non buddhisti non voglio usare questa parola perché effettivamente questo non cambia niente è semplicemente riguardo a essere dei bravi praticanti e quando dico praticanti non parlo soltanto di sedersi e meditare sono un grande praticante guardami come sono bene sono pure avere sempre con il dorge con la campagna e così via questa è una cosa personale naturalmente nessuno nessuno deve vedere queste cose qua naturalmente però la vera pratica è allineare la mente nella giusta direzione non ha importanza cosa non ha importanza cosa succede ma tu devi mantenere la tua mente sana quella è la pratica con avere la corretta attitudine e la corretta prospettiva quello automaticamente ti aiuterà ad avere un buon cuore e di pensare agli altri prima di se stessi e quindi perché molte volte molti dei problemi che succedono è semplicemente perché noi abbiamo un grande ego e non vogliamo veramente riconoscere che abbiamo un grande ego e quindi voi dare la colpa all'altra persona e pensare a quella persona è veramente molto arrogante a quella persona non si prende cura di me quella persona non mi non mi considera seriamente non mi apprezza non apprezzo quello che io faccio mi 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 io 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 e quindi se invece l'interesse deve essere per l'altra persona ma l'altra persona ha assolutamente niente a che fare con i nostri problemi con le nostre situazioni è semplicemente riguardo al nostro ego nostro egoismo è veramente molto facile fare così perché noi abbiamo fatto questo per non so quante vite abbiamo fatto questo e se voi credete nelle altre vite passate però se voi credete in questa vita in questa vita noi abbiamo tantissime molte vite alla mattina ci svegliamo e siamo ornati alla notte andiamo a dormire e moriamo quindi ogni giorno una vita è una nuova rinascita ogni giorno la rappresentazione è una metafora della vostra vita delle vostre vite vi svegliate freschi e poi dovete andare a dormire quindi anche se voi non credete nella reincarnazione o le vite passate le vite future ma anche in questa vita succedono queste cose quindi veramente è riguardo a mantenere quel tipo di attitudine sempre particolarmente con voi stessi praticare con voi stessi ho compassione per gli esseri sensienti voglio la cosa migliore per gli esseri sensienti di merito pratico bui di cita e prego tutti i giorni prego per tutti quanti gli esseri sensienti voglio che smettano di soffrire e così via semplicemente perché noi ricichiamo queste cose qua allora sono una brava persona però poi mi lascio che mi ha la mia mente abbia tutti questi pensieri negativi tutti questi pensieri intossicati e quando vedo quella persona vado a criticare quella persona e poi tutti questi pensieri tutti questi aspetti vanno completamente contro e sono opposti a quello che è la nostra pratica come funziona la nostra pratica quindi dobbiamo essere cose complementari bisogna che siano complementari altrimenti è inutile altrimenti è come avere una bomba è come avere una lampadina ma senza elettricità se avete un altare pieno di immagini fate tutte quante le offerte tutti i giorni e così via e poi dopo è come avere è come avere una lampadina senza elettricità anche se voi avete tutte quante la fede se non avete la giusta attitudine verso gli altri esseri sentienti allora non ci sarà vita potete avere non ci sarà la luce potete avere la lampadina però se non avete elettricità la luce viene soltanto quando avete veramente un buon cuore quando avete veramente un buon cuore allora così se accende la lampadina potete avere potete moltissimo fare potete fare la meditazione potete avere queste cose è facile potete avere una mente di attitudine potete lievitare potete volare e così via tutto ciò che potete fare però effettivamente la città di questo che cos'è che è veramente utile dopo di questo se voi non avete la compassione non potete continuare rimanete lì rimanete bloccati rimanete bloccati siete completamente attaccati alla vostra pratica siete completamente attaccati a questa mente di grande le attitudini che avete così avete orgoglio quindi smettete di avere compassione quindi compassione è la chiave veramente e la compassione comincia con se stesse e quindi io penso che sia veramente molto interessante perché il Dharma parla di tutti quanti gli esseri essenzienti grazie a tutti gli esseri essenzienti che noi siamo qua e quindi che abbiamo questo adesso che posso parlare direttamente con voi il fatto che ho il caldo in casa che ho un tetto questo è grazie a tutti gli altri esseri essenzienti e quindi quindi questo è importante pensare a questo ecco perché la vera attitudine è l'attitudine di prendersi cura comprendere dare amore agli altri esseri senzienti ma cominciando con se stesse quindi avere compassione per se stesse se io sono scontento bisogna avere compassione per se stessi e quindi naturalmente potete cercare di applicare questo per gli altri se voi lo applicate soltanto agli altri o gli esseri essenzienti gli esseri essenzienti e poi trattate voi stessi malissimo allora qual è il punto e allora vi siete stressati e poi criticate voi stessi ah io non sono niente non sono nessuno ho fatto questo e critichiamo non riesco a portare a termine niente allora questo effettivamente non è veramente utile non è una vera pratica quindi io penso che sia veramente buono fare le sadane fare la pratica quotidiana la pratica tradizionale però dovete averla complementare alla vostra mente alla vostra attitudine quotidiana e quindi per poter veramente avere una completa buon cuore e un caldo cuore caloroso questa è veramente la cosa più importante nella pratica quotidiana e questo è quello ciò che vi fa diventare buddhisti o qualsiasi cosa qualsiasi cosa voi mettete a avere una regola d'oro per tutti quanti tutto quanto deve essere complementare praticare il Dharma ma diventate migliore cristiano diventate un migliore musulmano il cristianese può aiutare a diventare migliore buddista eccetera non ha così importanza il nome l'etichetta l'importante è come voi potete mettere in pratica quell'attitudine come noi possiamo condividere il Dharma con i nostri bambini questo è difficile delle volte perché il Dharma è veramente una parola grossa ecco per avere la buona attitudine bisogna cominciare con dei dettagli piccoli per esempio con mio figlio prendo per esempio mio figlio delle volte ha paura del buio quando è il momento di andare a dormire se con sua mamma lei lascia la luce accesa però com'è io spengo la luce e lui comincia a piangere no no non spegne la luce non mi piace il buio non mi piace il buio la luce è dentro di te e gli dico tu hai la luce la luce è dentro di te la luce non è fuori la luce è dentro e io dico io dico quando è buio allora lui comincia a pensare a questo lui comprende questo e l'altro giorno ha fatto questo molte volte l'altro giorno mi ha detto grazie thank you very much ho detto grazie papà però anche se il bambino ha tre anni queste cose quali può comprendere questo è veramente dharma e dargli il potere il dharma e dare il potere alle persone di poter comprendere e di salvare se stessi da se stessi questo secondo me quello è salvare se stessi da se stessi perché dobbiamo il più possibile evitare che uno diventi siamo noi stessi che ci portiamo creiamo le cause per i reami inferiori e siamo noi stessi che creiamo le cause per i reami superiori quindi questo è veramente molto importante quindi questo succede così in un modo automatico non penso che lui stava piangendo e ha detto la luce è dentro di te e naturalmente a livello metaforico ha un sacco tantissimo significato tantissimo però un bambino di tre anni è difficile che la luce è dentro di sé non è il fatto di avere la luce al di fuori e gliel'ha spiegato questa cosa qua adesso è notte e quindi è buio però dopo un po' vedi un sacco di più perché dipende dal buio quindi è molto importante così il dharma è pensare le cose in un modo positivo in qualsiasi situazione guardare le cose da un punto positivo e il dharma è quello che ci aiuta proprio ad essere in grado di salvare noi stessi da noi stessi e di condividere questo con gli altri questo lo possiamo fare possiamo guardare tutti quanti le situazioni in un modo positivo in questo modo possiamo ispirare gli altri a fare questo quindi vedere le cose da vari punti di vista quindi è veramente da piccoli dettagli ecco per un bambino per esempio non è insegnare il dharma il concetto di dharma è di aiutare di dargli potere dargli la capacità di comprendere se stessi per esempio stavo spiegando come non danneggiare gli insetti o di non picchiare il cane perché lui picchia il cane e io dico per quale motivo picchi il cane per quale motivo devi dargli tantissimo amore perché lui mi ha mi ha picchiato mi ha morso e allora ho detto che bisogna comprendere invece che se adesso il cane il cane e morde Norbu e Norbu lo picchia allora adesso il cane non non morde più Norbu però comunque piano piano comunque lui cerca di spingere il cane da qualche parte cerca di spingere il cane e io dico no spingelo gli fai male cerco di spiegare ti piace se qualcuno ti danneggia o se tu se volessi qualcuno che ti schiaccia con un piede come uno schiaccia un insetto allora anche gli spiego non devi tu non non hai il diritto di togliere la vita agli altri esseri a una formica o un insetto e lui piano piano comprende comprendere no? dice no non mi piace nessuno nessuno deve fare questo o soltanto noi stessi possiamo creare le cause per rinascere in quella situazione quindi i genitori devono creare questo devono venire insieme perché questo succeda però voi non potete mettere insieme se voi non potete dare la vita come potete immaginare che avete togliere la vita ad un altro essere dal momento che voi non siete in grado di dare la vita ad un essere non potete neanche togliere la vita quindi se voi siete in grado di dare la vita ad un essere allora potete fare qualsiasi cosa potete fare qualsiasi cosa potete fare così naturalmente non è così comunque per lui che potesse capire questa cosa qua naturalmente lui ha tre anni per cui bisogna cercare di spiegare le cose in accordo alla sua età quindi questo cercare un modo di far sì che comprenda le cose e anche quindi delle volte è molto triste perché non ottiene qualche cosa cerco di spiegargli che la vera felicità viene dalla tua mente non da ottenere quello che tu vuoi e quindi questo è un po' difficile per lui comprendere questo la prossima domanda c'è un'altra domanda che è arrivata come come avere come cercare di agire o come accettare la morte di un figlio è veramente e quindi per esempio moltissime persone che per esempio mi sono cariche sono morte li amo così queste persone esistono ancora nel nostro cuore esistono ancora per esempio il mio fratello quindi una cosa che è molto molto utile è di dare di dire ciao di dire ciao di lasciare andare non vuol dire che uno lo abbandona lasciare andare non vuol dire lasciare andare vuol dire ringraziare ringraziare e questo è veramente molto importante comprendere questo concetto perché molte volte noi pensiamo se lascia andare magari gli dico ciao vuol dire che non apprezzo è completamente l'opposto in un qualche modo è che nella nostra cultura noi abbiamo creato questo concetto che riguarda la permanenza è una cosa attiva mentre invece in realtà lasciare andare è dire grazie è ringraziare quando mio fratello è morto tutta la mia famiglia era veramente tutti quanti erano così infelici io ho nove fratelli e sorelle e quindi ho tantissimi cugini siamo una grandissima famiglia e quando mio fratello giovane era il 2004 2003 2004 e quando lui è morto tutta la famiglia per una settimana piangevano tutti il giorno ogni giorno piangevano 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 e tutti quanti erano completamente tristi e naturalmente anch'io ero infelice però non era una grande cosa perché ero a Bombay e così poi dopo pensavo sempre al concetto dell'impermanenza anche a Norvo gli imparo il concetto dell'impermanenza che sua mamma non piace sua mamma non piace che noi parliamo dell'impermanenza però io penso invece che sia una parte della vita e quindi io ho avuto un sogno che era molto un sogno vivido e lucido quando il terzo giorno che lui è morto e in questo sogno lui era un sogno molto lungo però c'è stato un momento che lui era lì e l'ho visto e lui e lui non sapeva di essere morto nel sogno e quindi lui stava cercando di venire dalla famiglia abbiamo avuto il pranzo insieme e lui stava cercando di parlare con la famiglia però nessuno poteva dire quindi era veramente infelice però anche ho pensato che la famiglia era veramente molto scontenta quindi veramente molto preoccupato e si sentiva in colpa riguardo all'infelicità della famiglia per cui lui mi diceva nel sogno per favore per quale motivo le persone sono così scontente sono infelice non mi piace le persone soffrono non posso andare non posso andare rimango bloccato qua e sono bloccato qua quindi quando mi sono svegliata la mattina ho detto wow è vero se tutti quanti piangono e sono così infelici questo è veramente è veramente una grande responsabilità per lui e quindi io dice adesso io vado a celebrare un po' radicale però quello che ho fatto sono andato fuori sono andato a fare un party avevo 16 anni ero abbastanza giovane e quindi naturalmente la mia famiglia non aveva capito il mio nono invece che mi ha parlato per 10 anni non mi ha parlato per 10 anni a causa di quello perché sono andato sono tornato a casa la mattina alle 7 dopo aver festeggiato e così e le persone al terzo giorno non voglio più sentirmi infelice voglio essere contento e gioire e celebrare così questa è la storia è l'esperienza la mia esperienza questa poi alla fine poi mio padre mio nonno mi ha capito che naturalmente non aveva capito e non ha capito il concetto comunque quindi per me è come l'ho visto invece di sentirsi negativo riguardo a qualcuno che lascia bisogna essere contenti ringraziare che sono esistiti ringraziare che ci sono stati che questo può succedere anche a me può succedere a tutti quanti questo quindi veramente lasciare andare non è dire addio ma è dire grazie un'altra domanda come posso esprimere me stesso politicamente senza come posso esprimere me stesso politicamente senza esprimere la mia politica senza che sia un problema riguardo alla mia pratica del dharma la pratica politica il dharma sono due cose diverse sono due cose completamente diverse per quale motivo c'è un problema questa è la risposta questa è la risposta questa è la risposta no? io penso posso anche molte persone pensano che esprimere politicamente devono prendere parte devono criticare e devono delle volte pensano che ci sia della rabbia del rancore che avviene quando vedi qualcosa che politicamente succede ed è qualcosa di problematico allora vedo delle persone che mi hanno chiesto cosa devo fare perché sono buddista per cui non devo essere arrabbiato non devo criticare bisogna sempre avere tantissima compassione per tutti quanti i politici perché i politici soffrono tantissimo hanno tantissimo stress hanno tantissimo moltissimi problemi e quindi non ha importanza chi sia che tipo di politico sia bisogna avere una grande compassione naturalmente la mente che critica va bene non ha importanza chi sia il politico sempre bisogna cercare noi ci sarà sempre qualcuno di insoddisfatto noi siamo sempre insoddisfatti perché è veramente un concetto veramente vago e quindi effettivamente ci sono tantissime altre cose che succedono per noi non siamo informati noi dovremmo cercare di essere in democrazia di base il governo dovrebbe essere grazie a noi stessi e siamo noi che dovremmo avere il potere però sembra che noi siamo coloro che siamo effettivamente coloro che manteniamo tutto il sistema lavoriamo come dei matti e soffriamo come dei matti e noi siamo veramente in grado di soddisfare o completare i nostri bisogni e quindi c'è tantissimo sarcasmo nel modo in cui viene e come è costruito e la cosa più sarcastica è che noi dobbiamo accettiamo di essere trattati in questo modo e quindi in questo modo la politica è veramente vago perché non è veramente reale voi ricevete le informazioni che volete ricevere e di base c'è questa divisione questa separazione chi quelle sono le diverse parti però alla fine stessa cosa che da che parte siete è più che altro riguardo al concetto del controllo comunque controllare le masche comunque non so non voglio entrare su questo perché è molto difficile è molto facile per me cominciare a parlare di qualcos'altro per cui lasciamo perdere ma la vedo così dobbiamo veramente prenderci il potere indietro e comprendere il concetto e non essere influenzati dalle politiche perché in qualche modo naturalmente noi siamo responsabili ma anche ma criticando noi non possiamo portare completamente niente quindi dobbiamo uscire da questo e quindi è molto facile indicare quella persona ha fatto quello ha fatto quell'altro però questo è di base quello che noi abbiamo fatto per tutta la nostra vita però se noi stiamo attenti continuiamo a farlo per il resto della nostra vita per cui dobbiamo essere molto pratici dobbiamo essere presenti qua e non tanto così in un altro posto e per comprendere veramente perché noi non abbiamo le informazioni completi non abbiamo l'immagine complessa di quello che succede perché ci sono tante di quelle cose che succedono in queste camere chiuse tutti quanti i vari contratti e meccaniche ma noi siamo veramente informati male e non abbiamo una giusta informazione e quindi non so è molto difficile sapere cos'è che è reale quello che è riguardo al mondo politico però penso la cosa più importante è quello di avere compassione e quindi in questo modo perlomeno voi canalizzate quel tipo di energia e quindi questa è una cosa salutare questo ci aiuta ad avere questo tipo di attitudine non ha importanza per chi anziché sentire non dovete inquinare voi stesse sentirvi male riguardo a quella persona e dire quella persona negativa e così via questa cosa questo è un tipo di vibrazione che non serve assolutamente a niente che critica e quindi non c'è abbastanza autostima e così via voi non volete questo quando guardate la televisione è bene avere compassione ma non avere delle emozioni distruttive cercate di tenerle lontate tenerle sotto controllo e se avviene questo dovete cercare di investigare analizzare perché per quale motivo e da dove saltano fuori queste emozioni distruttive un'altra domanda qual è la differenza fra compassione per se stessi e l'egoismo e cos'è quella la gratificazione personale e il gioire devi riprendere la seconda parte la prima la prima cos'è la compassione per se stessi e l'egoismo sono una grandissima differenza l'egoismo io sono bravo io sono fantastico l'attitudine autogratificante sono molto meglio degli altri quando voi vedete qualcuno vi mettete a confronto con quell'altra persona sulla base della vostra sensazione di superiorità questo non ha assolutamente senso è completamente un'allucinazione è una totale allucinazione quindi l'attitudine autogratificante non è una cosa buona perché non fa altro che nutrire lo stesso egoismo che è il tuo vero nemico è il vero nemico ed è il nemico interiore il momento che il momento che distruggi il nemico interiore e il nemico esteriore finisce noi pensiamo che c'è il nemico esteriore noi pensiamo perché siamo abituati a pensare in questo modo ma questo è come il nemico interiore è l'egoismo e la parte dell'egoismo è l'attitudine autogratificante e la mente è l'attitudine autogratificante è veramente come una malattia si può dire che è quasi una malattia è come l'essere malati essere malati e quindi creare un'immagine di se stessi che non siete veramente voi ma non siete mai soddisfatti con voi stessi e quindi questo non è vero sapete benissimo che non è vero però in un qualche modo siete attaccati a quello volete credere a questo e questo diventa il vostro rifugio questa attitudine autogratificante per esempio per esempio se io faccio un errore se ho un'attitudine autogratificante non lo riconoscerò mai questo anche se è una cosa veramente un grande problema non riconoscere questo e non sono in grado di riconoscere questo perché c'è troppa attitudine autogratificante e quindi devo convincere me stesso se riconosco questo errore perché è negativo per me è negativo per la mia immagine è negativo per la mia reputazione creiamo un certo tipo di idea per evitare di fare questo perché l'attitudine autogratificante è di base come cibo per l'egoismo e l'egoismo è il vero nemico e l'ego rimane lì fino alla fine proprio fino alla fine quando state per morire quello è quando è il momento che l'ego vi abbandona perché quello ha fatto un lavoro molto bene e quindi va da qualche altra parte il lavoro dell'ego è quello di non vi permette di crescere non vi permette di sviluppare le vostre potenzialità questo è il lavoro dell'ego lo potete chiamare lo potete chiamare cibo programma potete chiamarlo qualsiasi cosa o impronte non so potete chiamarlo come volete la parte oscura di voi stessi però alla fine è la stessa cosa quindi parliamo di qualcuno che non esiste il concetto di se stessi se noi nutriamo questo e nutriamo quei bisogni queste idee questa identificazione però effettivamente non c'è assolutamente niente a cui identificarsi perché chi siete siete soltanto il risultato delle vostre azioni non siete altro che il risultato delle vostre azioni ecco perché l'attitudine autoglutificante è il cibo per l'ego all'egoismo e noi non vogliamo nutrire l'egoismo perché se l'ego fa il lavoro noi falliamo nella nostra vita in questa vita quindi dobbiamo farlo nella vostra vita successiva se noi abbiamo creato i meriti corretti giusti le buone situazioni allora potrebbe diventare sempre più difficile sempre più difficile e quindi potremmo rinascere come un animale carnivoro come una tigre così dobbiamo uccidere continuamente tutti i giorni e quindi creiamo le cause per un dene rame inferiore e quindi sarà veramente molto difficile poterse liberare quindi l'attitudine autoglutificante l'egoismo ecco perché bisogna avere compassione per se stessi e la compassione per se stessi è veramente una cosa molto buona avere compassione per se stessi perché non è riguardo a me ma riguardo alle mie potenzialità e quindi quello che io posso essere e quindi perché l'attitudine e la compassione per se stessi ha saggesa l'attitudine autoglutificante è una saggesa mentre invece la compassione per se stessi ha saggesa è un po' l'attitudine autoglutificante è come una una droga un essere intossicati mentre invece l'avere compassione per se stessi è veramente essenziale è un modo molto importante per comprendere la bodicita una è la compassione e l'altra è la bodicita la bodicita è lo stato mentale è una realizzazione che l'attitudine verso tutti gli esseri sensienti è la stessa per tutti e quante come per tutti quanti gli amorevoli esseri sensienti le nostre madri ancora di più che per la nostra non possiamo veramente comprendere il nostro concetto umano per comprendere la profondità di bodicita è veramente molto difficile però possiamo toccarlo un pochettino possiamo utilizzare l'amore incondizionato ecco perché è veramente molto importante avere compassione per se stessi è basato sulla saggesa comprendere la propria potenzialità le proprie vere potenzialità quindi è quasi come avere due amici uno è quello che vi porta fuori a fumare dice no non devi fumare non è buono per te è così questo è un po' l'attitudine di notte di notte voglio fumare perché sto bene così insieme agli amici così via voglio essere veramente interessato e invece la mente del compassione dice no non fare questo perché questo a livello ultimo ti danneggia e ti fa sentire più felice e questo non ti soddisferà questa è l'attitudine è l'attitudine della compassione la mente la mente autogratificante è un nemico qual è l'altra domanda l'altra domanda qual è la differenza fra la gratificazione e il gioire essere gratificati avere gratificazione per se stessi questo può aumentare il proprio ego io sono così bravo questo è un po' come l'autogratificazione naturalmente non dobbiamo confondere con il fatto di gioire gioire no? non dobbiamo confondere perché gioire di essere contenti di essere di nutrire nel contesto se io gioisco di aver fatto 2% quella motivazione di fare anche di più di fare il 98% e quindi questo è il gioire delle cose che io gioisco perché ho fatto questo perché ho fatto veramente bene voglio continuare ad aiutare gli altri voglio continuare ad essere di servizio per gli altri di aiutare come la mia vera natura e così via questo è il tipo il gioire è una felicità di qualche cosa di veramente buono non soltanto apparentemente buono ma qualcosa veramente buono che ha veramente un vero valore il valore e quindi questo a livello ultimo questo è veramente una cosa molto positiva nella propria vita e quindi l'autogratificazione è soltanto una temporanea semplicemente questo volete convincere voi stessi che siete meglio di quello che voi siete e lì e lì dobbiamo andare al di là di quello dobbiamo cercare di evitare l'autogratificazione può essere veramente molto distruttiva a livello ultimo perché ci dà il concetto di essere un concetto che non è vero e quindi noi avremo una separazione di quello che è come le persone ci vedono e come noi vediamo noi stessi e quindi nella società piano piano noi perdiamo i nostri amici perché eventualmente i nostri amici non vogliono più stare con noi perché è soltanto riguardo me 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 a meno che non siamo dei migliorari 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 allora avremo un sacco di amici e quella è un'altra storia qualcosa del genere tantissime grazie per tutte queste risposte tutti questi insegnamenti e naturalmente io sono sicura di essere veramente molto bello molto di grande aiuto e dico adesso adesso da Jennifer Kim che chiuderà questo incontro con le preghiere grazie tantissima Osa per averci dato così tanto cibo per pensieri quindi così tantissima energia facciamo un po' di idee che adesso anche vuoi leggere tutto o lo facciamo noi grazie a Grazie a tutti quanti, grazie a tutti per aggiuntare le preghiere di Corso Santità. Possiamo recitare in tibetano la preghiera per la lunga vita di Lamazzo Parimbo e c'è anche la tua lunga vita. Per favore, recita in inglese la preghiera di lunga vita. Grazie a tutti i desideri, fonti di ogni beneficio e felicità in questo mondo, incomparabilmente gentili, tenzi in ghiaccio. Ti prego per apposto di quanti i tuoi desideri spontaneamente soddisfarsi. Per Lamazzo Parimbo c'è tu che tieni la volontà e i servi come sostieni e preservi. L'intervento di Manjushri, posso tu avere una vita lunga, per favore, per favore vivi a lungo. Poi la preghiera di lunga vita per te, Lamazzo, venerabile, c'è la tua gentessa che cede tutti quanti i conquistatori che vagano in vari paesi, particolarmente in occidente, consapevole del tuo amore per noi e intenzialmente sei tornato con noi in una famiglia di una terra distante. Facciamo questa ricerca, per favore, lama, per favore, per favore, vivi a lungo. Grazie tantissimo. Grazie, siete veramente, siete molto gentili, grazie a tutti quanti. Grazie a tutti quanti. Voglio dire ciao a tutti quanti. Adesso dico a tutti quanti, vorrei dire grazie a tutti quanti e hello a tutti quanti. Sono molto contento, spero di vedervi ancora presto. Grazie tantissimo. Sì, sarà veramente una grande bellissima per tutti quanti. Sì, sono veramente gentili. Grazie ancora. E poi voglio che presto sarà il tuo compleanno e poi sono tutti quanti i tuoi desideri, essere soddisfatti per tutti quanti. Per favore, guardate l'iniziativa del Global Tree Initiative di Lama Ose e anche abbiamo anche nella chat chi vuole darci un contributo o no vogliono dire grazie a qualsiasi cosa. Se vogliono avere un riscontro dell'incontro di oggi, per favore potete scrivere nella chat cosa avete pensato di questo incontro, se è andato bene, se è andato male. Grazie. 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 Grazie.